Vi è il numero chiuso per l'ingresso alla Facoltà di Medicina. Su questa possibilità si sta concentrando una commissione istituita da Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca. Il termine per fornire le proposte per una nuova modalità di selezione è stato fissato dal Ministro per la prossima primavera. I lavori della Commissione partono da alcuni dati di fatto. La cronica carenza di medici, tragicamente evidenziata dalla pandemia, un tasso di occupazione dei laureati in medicina superiore all'83%. Se il numero chiuso è stato nei decenni passati una necessità, adesso, secondo il Ministro Bernini, va rivisto alla luce del fabbisogno reale. Per l'anno accademico 2023-2024 di fatto ancora non cambierà nulla. Il TalkMed sarà per la prima volta online in due sessioni, dal 13 al 22 aprile e dal 15 al 25 luglio, con possibilità di iscrizione anche per gli studenti di quarta superiore. Soddisfatto il Presidente del Veneto, Luca Zaia, da molti anni continua a denunciare i problemi causati dal numero chiuso per l'accesso a medicina. Questo governo finalmente dà un segnale concreto.